ciao da francesco riportierecalcio.it in questo video ti presento la versione bianca del freccio g3 roche è il modello utilizzato seppure con alcune modifiche da samir andalovic portiere dell'inter è la seconda colorazione dopo il freccio gialla che usato per mesi e ha una struttura molto simile a quella del pure contact a partire dal polsino e dal cinturino il polsino praticamente inesistente perché è un tutt'uno con la struttura stessa del guanto il cinturino invece come vedete molto piccolo e consente comunque di fissare bene il guanto guanto con strutture ignoprene e lattice g3 lattice g3 con taglio evolution negativo la caratteristiche del del taglio si sin dal pollice che non ha addirittura il lattice che gira sulla parte anteriore del del dito le altre invece sono tutte come vedete con cucitura negativa però nel caso del medio e dell'anulare con questa costruzione praticamente roll finger negativa il come dice il taglio stesso evolution una versione moderna di questa struttura come sul pure contact poi c'è il lattice che scende anche nella parte posteriore del del polsino riguardo il dorso è ancora più semplice della versione pure contact non ci sono imbottiture di nessun tipo solo questa grafica sostanzialmente nera nel dettaglio vediamo un po l'ottima lavorazione delle delle cuciture sul fianco nessun altro tipo di lavorazione con lattice che va sulla parte anteriore del guanto quindi un guanto con materiali moderni ma un'idea e una concettualità molto tradizionale nella sostanza che poi è l'idea del progetto freccia si tratta di un guanto moderno ma con idee di tipo tradizionale quindi se cerchi un guanto con una calzata fit guanto leggero senza imbottiture senza caratteristiche particolari che magari possono non piacerti il freccia g3 si è sicuramente un modello da prendere in considerazione per il tuo prossimo acquisto un'ultima cosa se il video ti è piaciuto lascia un like se hai delle domande da fare inerenti al video scrivile nei commenti e ti ricordo fondamentale se devi acquistare i guanti fallo su portierecalcio.it ciao